Ciao a tutti ragazzi, sono stati 6 e benvenuti in questo nuovo minigame Oggi siamo sempre sulle pixel, come nello scorso episodio Anzi, lo scorso bisogna mettere il link Ops, lp Ok, siamo sempre con la webcam E oggi andremo a provare il minigame nuovo Che è Cops and Creams Poi sostanzialmente quello che ha fatto anche Vale E Francesca Ovvero RediFra Che è sostanzialmente Cut and Strike Minecraft, è una figata pazzesca Solo che, ah, facciamo un quick join che non ci interessa Se non ci interessa fare altro Ok, ora Come faccio vedere, adesso stanno già combattendo Dobbiamo tanto aspettare Che finiscano la partita E questa è inferno Questa è inferno Doveva essere Sembra inferno In teoria lo è Sì sì, questa, sì sì è inferno Questo è il mid Questa è Bombside Ah no no, questa Non è il mid questo Questo è Banana Ok Qui c'è Come si chiama La base dei terrorist Dall'altra parte i citti Ok Penso abbiamo finito Ok, perfetto Eccoci qui ragazzi Allora Possiamo shoppare qualcosa Se vogliamo Non abbiamo soldi in effetti Potete sviluppare Vero? Quindi magari Usiamo l'USP I warcutter Uh, radio Facciamo Pump action No Ok, ce l'ho Perfetto Ho questi soldi Dov'è che si vede? Money 643 Ok Dobbiamo uccidere Allora facciamo così Eh, però è un po' complicato Giocare il CS qua Ok, siamo entrati in area Abbiamo entrati ragazzi Dobbiamo Difendere la bomba Quindi Qui dietro Mettiamoci qui dietro Che Perché quello sta sparando? Ok Non è come il CS In cui bisogna camperarsela No Un po' diversa Qua L'ho ucciso No Mi ha ucciso Oh Ma che Oddio Guarda di blocchi si rompono Ragazzi che figata Le spawnerai nel prossimo round Un po' mi ha ucciso uno Mi ha ucciso No Oh merda Siamo Un po' morti Presumo Che i CT Siano quelli Con l'armatura E gli altri Siano Quelli con il creeper Siano tipo I terrorist Oddio Una frag Una figata No è bellissimo È bellissimo Giocare in CS In questo modo Ora Uno e uno Due Ok Oh stanno plantando Stanno plantando Oh lui è morto Perfetto Bravo Col pompa Col pompone La cattiveria C'è un altro qua Eh Però uno contro tre Non penso sia troppo semplice Ma è cosa Oh No Ci hanno ucciso ragazzi Eh Oh Most wanted Ah ok Wow Allora Abbiamo un po' di soldi 4000 Ok Non siamo in eco Quindi Facciamo così Prendiamoci Un Neme 4 Perfetto Un Kevlar Cioè dovrei fare Nel metro Non ce la faccio E ci accontentiamo Dai Ma nulla Ok Neme 4 Bello bello In effetti Una figata Solo che non so Se Tipo ucciderò Qualcuno Allora Voglio un attimo Fare attenzione Non voglio Ora siamo in banana Qui Dobbiamo fare molta attenzione Nel uccidere la gente Stiamo qui E uccidiamo Nel senso Facciamo il giro Allora Facciamo il giro Dall'altra parte E vediamo Di beccarli Dall'auro base Questa è la base GT Come sapete Counter terrorist E di qua Andiamo in A Dove poi ci sono i terrorist Ora questo è Biblioteca Oh mio dio ragazzi C'è Figata Che non c'è nessuno In B Si so che non dovrei correre Con l'arma in mano Però è figa Ok Andiamo un po' Sono passati Andiamo un attimo In un appartamento Andiamo un po' Che c'è qualcuno Non c'è nessuno In un appartamento Ok Abbiamo vinto Ok Non ho ucciso nessuno Però What the fuck G Ho un po' Di tosse Sorry Allora Proviamo un attimo A fare così Radio command Oddio Ok Compriamo un Kevlar E compriamo Una fire bomb Ok Facciamo Una Smoked grenade E una frag Ok Andiamo a fare una strage Però adesso Allora passiamo in là Visto che adesso Visto che se la sta cambiando abbastanza Butiamo una bella frag Davanti ragazzi E li ammazziamo Oh Ok Una smoke Ragazzi Oh Aspetta che sto ricaricando Aspetta Ok Ucciso Guarda la vp Ragazzi Ucciso Ragazzi la mira è bellissima Qui Non so se si può prendere Quello No Non so se c'è un Bulsante per poterlo prendere L'ho ricaricato Nel mentre Qui c'è una vp No Mio dio La vp voglio Voglio una vp Ragazzi Voglio comprarmi una vp Un fottuto vp Comunque stiamo vincendo Ah ok Ora siamo quelli che plantano Perfetto Dovremmo avere Ah vabbè Non abbiamo niente E Voglio prendere una Desert Eagle Prima Desert Eagle Ah Ok Desert Eagle Perfetto Cerchiamo di ammazzarli Va Guarda il Desert Eagle Guarda 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 una vp Ho preso Ah quindi con la cura Lanci Ok come è normale Insomma ok Allora Siamo qui Passerei da B Visto che in A C'è la campionano abbastanza E Ci hanno futto molte volte Campionando in A Ora Passerei da Appartamenti alti Ora siamo Nei appartamenti bassi E Oddio Ucciso Perfetto Ucciso uno Ok E Passerei in avanti Andare in appartamenti alti E li prenderei da sopra Se riesco BAMMA Ragazzi arato La cattiveria Ok Come siete live loro What the fuck Non siamo due Ok uno soltanto rimasto Ragazzi Ora lo troviamo Ed è qua In teoria è qua Vieni fuori Bello Vieni fuori Che ti ammazzo Ok No Non c'è nessuno Dov'è Dov'è l'ultimo E' qua vicino Ragazzi Guarda 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 Ragazzi Un attimo Caricare Guarda BAMMA Arato Ulisse E la mira Ragazzi OP Ok E Prendere la WP Se riesco No 4000 E allora Kevlar Kevlar E Un bel AK Perfetto In teoria Noi siamo Vabbè si In teoria La AK Posso comprare La AK Posso comprare Da udunque Sia in CT Che in T Vabbè A caso Andiamo Let's go Let's go E' una figata Perché tipo What the fuck Giocare Così è una figata Pazzesca ragazzi Escort C4 Per piazzarla Vabbè O possiamo anche Partire qua Appartamenti alti Ok Ah ci sono un paio Di appartamenti Un po' diverso Come cosa Però è giusto Vabbè è giusto così Ok Non c'è nessuno Andiamo in appartamenti Secondo che C'è qualcuno Presumo che C'è qualcuno qua Però anche qui Non ci sono rumori Quindi è un po' complicato Appartamenti Diciamo Sciso Perfetto Ricarichiamo Guardate che Ce la camperiamo Ok Deve essere qua Dovrebbero essere Oh È stata Plantata Ragazzi Buono Ucciso Allora Aspettate che Sono andati Una cacca Preso un po' di danno Ho vinto Va Mi hanno fatto anche questa Ok Io voglio prendermi Adesso sto coso No 4007 Porca cacca Vabbè Dai Prendiamo la prossima turno Voglio la vp Ragazzi Vedete che cavolo C'è nella vp Comunque è troppo facile Ragazzi Cioè What the fuck Sono scarsissimi Siete questi Non mi hanno giocato A cs Sinceramente Perché Non so nemmeno Cosa bisogna fare In cs Una parte Presumo E che qualcuno Stava staccavicchiando Però Ti puoi stare Settare fermi È un'ottima cosa Molto spesso È molto utile Stare fermi Vedete che qua In appartamento C'è sempre qualcuno No Merda No Mi ha ucciso Stronzo Mi ha beccato Mi ha beccato a sopra Ragazzi Arca cacca Ok Nessun problema Adesso Sono scesi E presumo che il mio team Li possa andare a prendere Ora Appena gireranno Bam Aia Stanno prendendo botte Stanno prendendo stavolta L'appartamento Eh Mi cado in tutti L'appartamenti E ct stavolta Ah Abbiamo plantato ragazzi Abbiamo plantato Mi sa eh Andiamo un po' Sì abbiamo plantato qui ragazzi Dove è la bomba? Qual è la bomba? Oh mio dio È una figata pazzesca Guarda che figata sta bomba Ok Ora Stanno facendo Ora Stanno facendo Cosa che non si fa su CS Perché Non devi andare in giro su CS Quando planti la bomba Te ne stai qua Camperato Aspettando che la gente arrivi Ora Beh sì Stanno facendo comunque la strage Stanno uccidendo comunque qualcuno Però Ok Guardate sta arrivando qualcuno di lì E ora questo morirà L'ha ucciso Perfetto E Il prossimo turno prendiamo Qualcosa ragazzi Abbiamo fatto un po' di soldini Quindi dovremmo farcela Ok 4 secondi La bomba scoppia 3 2 1 Bam Scoppiata Game over Oh 3 2 2 di karma Mi ha preso un po' di soldini Oh mio dio Oh Bellissimo Volevo provare sto No però Volevo provare sto WP Abbiamo vinto 5 a 2 Quindi chi arriva a 5 Vince Va bene Infatti non fanno 30 turni Troppo lungo come partita Però È una figlia razzesca ragazzi Ok Questa è la Copse and Creams Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Ricordate Se avete Vi dichiarmi a consigliarmi Fatelo mettere qui sotto Nei commenti Dove sono da se è tutto Ciao Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti